eeeh Interes! Con il numero uno, Iann! Sone! Con il numero due, Nezzel! Duvris! Con il numero sei, Stefan! Perai! Con il numero sette, Piotr! Zielinski! Con il numero due, Marcus! Kurra! Enna Toro, con il numero dieci, il capitano! Lautaro! con il numero 22 con il numero 23 Nicolò con il numero 28 con il numero 32 con il numero 22 e con il numero 95 Alessandro Aguilatore Simone Lautaro fuori Lautaro fuori mamma mia prima occasione bella dai bella bella bel lavoro dai 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 ma ha parato a palo poverino Stacovic maiale no non l'ho capito palo o stanco vince la tirata fuori seconda occasione seconda palla gol per Lautaro vai 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 guarda che superiorità di qua ooooh bastoni altro altra occasione guarda te l'ha passato dai che matura parco giuda cazzo dai nooooh nooooh ma no chiedi ma beh era buona un'altra occasione era buona questa un'altra occasione specchiata ma è solo l'anticamera nella bandaggia si non è la gran parata questo è un gol mangiato vai vai ma non ci credo cavolo vado un free storm Sommel Sommel ma ragazzi tu sai che secondo me anche questa qua per la più ho sbagliato Sommel bravo ma la tirata centrale mamma mia ragazzi mamma mia vedi c'è il campo dai attacca lo spazio vai vai oh 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 Vicky 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 staglia 1-6 staglia staglia cazzo è la ora cazzo cazzo non prendere così non vedete cazzo non vedete cazzo non vedete cazzo v segue 2-6 vieni 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 Fuori gioco, annullato Fuori gioco di chi? Di chi? Di Marco Di Marco O bastone Di Marco Di Marco, sulla sinistra Ho trovato da lì di Marco Annullato Annullato Guarda Va a casa a far co2 Oh Sommer Madonna Sommer straordinario Ma Dumfries dorme di la Dumfries dorme 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 Dumfries Mamma mia Subito occasionissima l'ora Altro miracolo Bello? Si Vittorio 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 Cazzo Vittorio 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 E questo è buono di Marco per Lautari una zona. questo è buono Questo asino di Francesco e asino di noi a fare una paletà del genere. Bravi, 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 hai visto? Bravi ragazzi, bravissimi, ma come facciamo a prendere un gol del G? Ma come si fa ragazzi? Ma come fai? Ma siamo imbarazzanti. Ed è questo il motivo per il quale quest'anno non vinciamo un cazzo. Ma dove dobbiamo andare? Ma dove dobbiamo andare? Ma come fai? Col Venezia oristani o segnate? Col Venezia così in casa? Imbarazzanti. Siete imbarazzanti. Chiusi in undici dietro la linea del pallone, gli ultimi minuti col Venezia. Anziché gestire e tenere noi in possesso. Bravi, bravi ragazzi. Bravi ragazzi. Bravi ragazzi. Ma ci sta bene per l'atteggiamento che hanno messo in campo. Che cos'è che c'è? Grazie per l'atteggiamento che hanno messo in campo. Ma ci sta bene per l'atteggiamento che hanno messo in campo. ed è finita, ed è finita, siamo delle teste di cazzo, siamo delle teste di cazzo, non lo so, non lo so, non lo so, io non parlo, siamo delle teste di cazzo, delle teste di cazzo, teste di cazzo, abbiamo vinto, non è ammissibile così, è imbarazzato, ma dillo dove cazzo andiamo così, così, dai che scrivete!